Giovedì 29 giugna alle 17 a Terramo verrà inaugurata la sede abruzzese dell'associazione Guido Carli. Di cosa si occupa questa associazione? L'associazione ha il meritevole compito di stimolare il dibattito pubblico in ambito a temi di carattere finanziario, di economia, di economia politica, di politica economica e ovviamente di banca. È un'associazione che richiama i principi fondanti del grandissimo uomo pubblico che era Guido Carli, che è stato in discusso protagonista dei 50 anni di storia italiana dal dopoguerra fino agli anni 90, come governatore, come presidente di Confindustria, come fondatore della Luisa Guido Carli. Quindi stiamo parlando di una testimonianza, di un'eredità molto importante. Siccome nell'ambito del processo di regionalizzazione abbiamo deciso di aprire dei sedi locali, siamo riusciti a portarla a Terramo e questo è motivo di pregio e di apprezzamento. La presentazione si svolgerà nella prestigiosa sala conferenze della sede della Ex-Tercas in Corso San Giorgio a Terramo. È un altro motivo di pregio perché farla riaprire dopo tanti anni in cui purtroppo questa banca ha avuto anche qualche vicissitudine, quindi il fatto è che si riapra per un evento del genere è anche un segnale di speranza. Chi parteciperà all'inaugurazione? Avremo la presenza straordinaria dell'economista Pierluigi Ciocca, che è poi abruzzese di nascita e pescarese, e avremo poi chiaramente Federico Carli, che è anche lui professore universitario, professore di spessore, nipote dell'indicato Guido Carli, e poi saranno i saluti introduttivi della dottoressa Valeria Franceschini, e poi sarà la mia prolusione per quello che sarà l'inizio di un ragionamento che non si esaurirà con un'iniziativa. Noi abbiamo come ambizione personale quella di mettere in campo un paio di convegni di questa portata annui, quindi un regalo che noi cercheremo di dare a questa città che merita rispetto.